La prefettura di Biella ha concluso il bando per l'assegnazione dei punteggi per la cosiddetta accoglienza in Italia. Ha vinto verso Probu una cooperativa che lo scorso anno era stata sanzionata per aver utilizzato i migranti come lavoratori in nero, per ironia della sorte, per costruire un altro centro per migranti. Una situazione, Presidente, aberrante, a tratti inquietante, che ci racconta per davvero questo punto, per chi siano per davvero una risorsa boldrignana i migranti, ovvero sia per quel sistema delle cooperative che ha costruito un business aberrante e senza controllo. Allora tutto è da rifare, ma proprio tutto è da rifare, da rivedere e da rivoltare come un calzino in ordine al sistema dell'accoglienza. E' il caso di dire, per mutuare una frase recentemente entrata in voga nel dibattito politico, che la pacchia è finita, ma deve essere finita per gli scafisti, per i migranti, per quelle oggi vicine, troppo vicine, troppo... Usi dei termini adeguati a persone che migrano, non fanno pacchia.